salve amici eccomi qui come promesso oggi come potete vedere davanti a voi vi spiegherò come realizzare l'effetto strappato allora nel tutorial precedente vi avevo dato già la base dove aggiungere solo l'immagine editabile sia per le scritte che per le foto e tutto il resto oggi vi insegnerò invece come crearle da voi sopra un'immagine è un effetto molto utile perché come potete vedere anche in questo caso si possono creare effetti molto carini e non è così difficile come può sembrare come vedete qua ho fatto un effetto dal colore al color seppia posso creare un effetto di una foto da una parte è un'altra foto dall'altra e magari aggiungere un'altra e fare un'altra foto dall'altra parte come si può vedere nei matrimoni insomma dopo andremo a vederlo ora vi dirò come creare praticamente questa questo strappo che come potete vedere da più vicino che si vede meglio ho ricreato come potete vedere proprio la parte della carta strappata con dei puntini quei puntini che si possono vedere vicino alla carta e la sua ombreggiatura per far risaltare fuori magari una foto che viene da sotto bene ma adesso torniamo al nostro tutorial e vediamo come creare praticamente questo strappo quindi ripartiamo dal nostro sfondo e andiamo a crearci praticamente un nuovo livello quindi cancelliamo i livelli che avevo fatto prima e andiamo a crearci questo nuovo livello quindi cliccherò sull'icona qui sotto in basso a destra crea nuovo livello e andrò a prendermi per tutti coloro che avete photoshop 6 tramite il pennello andrò a prendermi praticamente il pennello numero 17 se non avete photoshop 6 chi ha photoshop 6 ce l'ha già compreso questo pennello andate a ricercare un pennello simile a questo benissimo partite sempre da una percentuale di pixel più bassa perché dopo avrete modo di allargarvi quindi io di solito parto con un 12 su una foto come questa ecco questa è per fare la linea iniziale quindi partiremo a creare la linea iniziale ovviamente il colore di sfondo sarà impostato sul bianco però per farlo risaltare più realistico mi sono abbassato un po con il colore sono andato sul colore più azzurrino da prendere un grigiastro molto ma molto lieve quindi cliccherò su ok andrò a crearmi la mia striscia cercando di zigzagare come un effetto strappo per creare l'effetto appunto come vi dicevo ecco è stato molto facile una volta creata la mia linea andrò praticamente ad aumentare il mio livello la mia grandezza del pennello quindi magari la portiamo un 18 con questa grandezza più grande ingrandiremo le parti alte le parti basse quindi quindi come dicevo partiremo dalla parte qui più alta e andremo a creare il contorno e andremo a spigolare di più le parti dove abbiamo fatto le curve come potete vedere creeremo delle punte più spigolose e un po più grandi faremo le parti più grosse solo delle parti alta e nella parte più bassa perché realmente quando un foglio viene strappato si crea un po più di spessore in queste parti cercando di non esagerare ovviamente e si cercherà di andare verso il centro quando siamo quasi alla fine ora mi riabbasso mi porto a un 12 e faccio la stessa cosa però col pennello più piccolo sulle punte mi raccomando il trucco è non lasciare mai il pulsante del mouse se usate il mouse perché così si creerà la linea continua se non creerete una linea continua si vedrà la differenza e quindi non viene fuori un bel lavoro come vedete andrò a cercare di spigolare di più le parti esterne ed ecco qua il mio strappo bene ora cosa dovremmo fare dovremmo andargli a dare praticamente l'effetto cioè creare questa ombra al di sotto dello strappo ovviamente se lo strappo viene da questa parte creeremo l'ombra sulla destra viceversa se lo strappo viene da questa parte creeremo l'ombra verso sinistra quindi cliccheremo due volte sul livello dello strappo e andremo ad aggiungere praticamente un'ombra esterna ovviamente nera su moltiplica e andremo ad angolare praticamente come potete vedere qui se lo strappo viene da destra quindi l'effetto dell'ombra avrebbe da questa parte andiamo a creare l'angolo di 145 gradi e con moltiplica di metodo di fusione e distanza io arriverei fino al 9 dimensione arriverei fino al 6 e per chi può piacere come no andrò ad aggiungere praticamente un bagliore esterno non ovviamente giallo ma nero con metodo di fusione scolora lo porto a circa un 18% questo per crearmi un po' di ondina anche da questa parte qui c'è chi può piacere e chi no si può togliere come mettere vedete voi io ve lo faccio vedere dopo una cosa molto importante sarà la sovrapposizione dei pattern dei pattern quindi andremo a sceglierci cliccheremo su sovrapposizione pattern andremo a sceglierci un pattern adatto per la carta in questo caso questo che dopo comunque andremo a aumentare la scala anzi scusate a diminuirla per creare un po' più di puntini e andremo ad abbassare l'opacità per non far vedere quel puntino troppo marcato ecco un 15 può andare bene ok quindi con control più come potete vedere avrò creato il mio strappo e come vi dicevo prima potrete aggiungere o togliere il bagliore esterno vedete voi quello che vi piace di più se volete potete abbassare un pelo l'opacità se vi sembra troppo marcato o no per me va bene un 100% comunque al massimo possiamo portarla un 98 non di meno e niente perché vi ho fatto fare praticamente il livello strappo da solo perché il livello vuoto perché così potrete modificare la foto al di sotto nel senso che ad esempio come vi ho fatto vedere prima all'inizio con control j vado a doppiare il mio sfondo e potrò andare a cancellare la parte che non mi interessa senza rischiare di andare di far vedere la cancellatura nell'altra foto è più facile vederlo che spiegarlo in questo caso praticamente cosa farò creerò un effetto in questa foto o come volete voi potete cambiare direttamente la foto e cancellare la parte diversa che non voglio quindi io adesso andrò a creare con immagine regolazioni bianco e nero farò come vi facevo vedere prima una tinta in velocità color seppia e mi farà tutta la foto ma io voglio solo questa parte la parte destra color seppia quindi andrò con la mia gomma andrò a cancellarmi praticamente la parte che voglio colorata e come vi dicevo prima modificando ovviamente un po' il diametro andrò a cancellare la parte che non mi interessa con come potete vedere nessuna fatica andrò a cancellare la parte che mi interessa senza andare a rischiare di andare da quest'altra parte e che si veda perché c'è il mio strappo sotto che non fa vedere praticamente il passaggio della mia gomma questo era quello che volevo spiegarvi se troverete delle parti più piccole basterà semplicemente diminuire il diametro e così via passerete e andrete a cancellare la parte che non vi interessa adesso io ho fatto come vi ho detto il color seppia voi potrete aggiungere come vi dicevo prima che si fa soprattutto nelle foto dei matrimoni io ho fatto una cosa un po' più veloce potrete aggiungere praticamente un'altra foto e mettere una parte della coppia un'altra parte in un altro movimento dell'altra coppia e magari fare un altro strap e creare un'altra parte e niente questo è tutto quindi questo sarà il nostro strappo come potete vedere avrò creato questo effetto e niente questo è tutto io vi saluto spero che il tutorial vi sia piaciuto ora siete capaci anche voi di creare i vostri strappi nelle vostre foto io vi saluto mi raccomando non dimenticate di iscrivervi se non siete ancora iscritti e di cliccare su mi piace se il video vi è piaciuto e di condividerlo io vi saluto e alla prossima ciao